Non avete idea di quante volte mi arrivino messaggi del tipo Guarda Luca, ho capito, è importante crearsi cerchi sociali sane e nutrienti, ma a me la gente fa schifo. Perfetto, direi non il migliore degli inizi. Ora, scherzi a parte, questa è una cosa che non va bene, per due motivi principali. Poi vi spiegherò anche come, diciamo così, risolvere questo problema. Ma innanzitutto capiamo perché è un problema. I motivi sono diversi, ne elenco due principali. Il primo è il fatto di essere totalmente egoriferiti, cioè vedere gli altri una sorta come di spettacolo che deve divertirci. Io esco con un gruppo di persone che deve farmi stare bene. Non funziona così. Il rapporto è un rapporto di collaborazione. Ora, io sono d'accordo che alcune persone sono tanto interessanti quanto un tombino, però sta sempre a noi trovare qualcosa di interessante negli altri. E, se questo non accade, allargare le nostre cerchie sociali fino al punto da riuscire a integrare nella nostra vita persone che ci arricchiscano. Se questo non accade, la responsabilità è nostra. Uno. Secondo motivo fondamentale. Il secondo motivo fondamentale è che noi siamo animali sociali, ma non socevoli. Andatevi a cercare il significato di queste parole sul vocabolario o guardatevi gli altri video che ho fatto su questo. Siamo sociali, ma non socevoli. Ma comunque siamo sociali. E se ci manca la socialità, ci manca un pezzo fondamentale di noi stessi, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista emotivo. E quindi stiamo rinunciando a una parte molto importante. E gli effetti collaterali sono ancora peggiori del senso di solitudine, che già di per sé sarebbe un buon motivo. Ma magari qualcuno dice, non mi sento solo. Ecco, se siamo soli e non ci sentiamo soli, il che non vuol dire non saper anche stare da soli, ma se la nostra vita è prevalentemente in solitudine e quando stiamo con gli altri non stiamo bene, c'è un problema da risolvere ed è molto importante. Ci ho fatto un percorso. Si chiama Conquista il Mondo, lo trovate sul sito. Andatevelo a fare e arricchitevi delle persone. Poi sono d'accordo con il concetto che alcune persone sono più o meno interessanti di altre. Sono perfettamente d'accordo. Ma il punto primo è prenderci la responsabilità della nostra felicità e della nostra socialità.